Coscienza e durata della vita. Montreal. 8 aprile 2018. Saluti miei cari, io sono Crayon del Servizio Magnetico. Stamattina ho detto che so chi c'è qui, ho anche detto che so dove mi trovo. Vorremmo parlare ancora una volta a coloro che sono seduti sulle sedie. Ci saranno due argomenti stasera, nessuno dei due sarà così lungo, ma prima di tutto voglio parlare a voi che vivete qui. Ci troviamo in quello che chiamate Canada orientale, e le caratteristiche di questo luogo sono risapute, e cioè che fa sempre più freddo. Se avete seguito le mie canalizzazioni, vi ho parlato del ciclo del pianeta, e del fatto che ne state per iniziare uno adesso. Il cambiamento climatico che vedete è assolutamente normale, non è qualcosa che questo pianeta ha generato a causa delle sostanze messe nell'aria. Lo dirò di nuovo. Le sostanze che mettete nell'aria sono in grado di uccidere voi non il pianeta. I cicli che vedete e di cui non avete fatto parte perché non avete una vita abbastanza lunga, sono di nuovo qui. Questo è dimostrabile, i climatologi, specialmente quelli che non sono coinvolti in nessun tipo di mitologia o politica, lo vedranno nei campioni di ghiaccio prelevati tramite carottaggio, negli anelli degli alberi, il pianeta sta attraversando un ciclo naturale. E il ciclo è freddo, l'abbiamo chiamato mini-era glaciale per avvertirvi del fatto che non si tratta di un ciclo grande. È accaduto precedentemente e quando avviene ci sono attributi che dovete conoscere al riguardo. Diventa freddo e rimane freddo, fa più freddo del normale, fa così freddo che possono esserci continuamente tormente di neve. Ora, vi sto dando questa previsione che non è una previsione esoterica, è ciò che gli scienziati dicono. Eppure c'è poca azione al riguardo, vi stiamo dando qualche consiglio perché sappiamo che sta arrivando qui. E voi potete aspettare dai 15 ai 20 anni per dire che Crayon aveva ragione e che dovreste fare qualcosa, oppure potete iniziare adesso, osservando questo. È un'ironia che il modo in cui producete elettricità, l'idroelettrico, sarà la cosa che farà crollare la vostra griglia. Il ghiaccio gelato fermerà la griglia, un guasto che non potrà essere risolto in uno, due o tre giorni. Cavi di alta tensione che cedono e che non possono essere ripristinati perché una tormenta di neve dura un mese, è possibile questo? Sì, non sarà la fine di questa città, sarà semplicemente un periodo freddo. Se vi preparate per questo, cari miei, starete bene. Avrete già molte cose sistemate, avrete bisogno di tunnel tra gli edifici, treni che vi porteranno in modo sicuro da un posto all'altro, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Ma come affronterete il fatto che la vostra griglia fallirà? C'è un numero di voi che sono gente del posto, che hanno visto questo molto profondamente. Quando avete in particolare una tormenta di ghiaccio non potete andare ovunque, la pioggia gelida non vi permetterà di camminare sul marciapiede, avete solo un'opzione. Stare a casa. E se questa condizione si mantiene per più di una settimana o giù di lì, e l'elettricità va via? Devo dipingere un quadro? Dovete cambiare il modo in cui producete elettricità. Cari miei, è qui, è già qui, è sul pianeta, è stato inventato. Sfido quelli che stanno ascoltando e che vivono in questa area o nelle province attorno, ascoltate questo. Ci sono modi di produrre elettricità senza l'idroelettrico che sono solo per isolati e quartieri, in modo che se uno si guasta potete semplicemente scappare alla porta accanto, non dovrete aspettare che le utenze vi ripristino la vostra elettricità, perché non possono, e non sarebbero in grado di farlo, sarebbe a di là della tecnologia ripristinarla durante una tormenta di neve, durante le piogge ghiacciate. Ma voi avete sempre la porta accanto. Abbiamo anche detto che sebbene sia contro le vostre leggi usare le stufe a legna, non ci sono leggi riguardo ad usarne una durante le emergenze. Quindi potete tenerne una e non usarla ed essere ancora nella legalità. Vi incoraggio a possedere una stufa a legna. Capite quello che sto dicendo? Sta arrivando e quello che arriva è così bello per Gaia. Gaia passa attraverso questi cicli con andamento regolare per ripristinare certi tipi di vita naturale su questo pianeta. Potete pensare che le barriere coralline stiano morendo e che voi ne siete responsabili finché non guardate al ciclo che c'è stato prima che gli umani fossero qui e vedreste che prima del ciclo le barriere coralline morivano. Fa parte del modo in cui funzionano gli oceani, è sempre accompagnato da un ciclo di riscaldamento che lo precede. Allora i ghiacciai si ritireranno come hanno fatto in passato e poi ritorneranno come hanno fatto in passato, è un ciclo. È un ciclo e sapendo che sta arrivando potete preparare queste province e quelle intorno così che ci passerete senza problemi. Sapete che sta arrivando perché sta già diventando più freddo. Siamo qui ad aprile e sta nevicando. Che coincidenza! Capite cosa sto dicendo? Questo è il primo argomento che voglio darvi poiché siedo tra di voi. Cari miei, non lasciate che questo vi sorprenda, non lasciate che questo vi sorprenda. E se dubitate di me aspettate un po' e ascoltate a quello che alcuni scienziati diranno. Sarà qui, il ciclo sarà al suo culmine tra 15 anni forse 17, ecco quanto avete. Avrete alcuni degli inverni più caldi e più freddi nei prossimi pochi anni. Ma in generale ciò che vedrete è che c'è più freddo e dura di più di quanto abbia mai fatto. Non sono cattive notizie, avete tempo. La più grande novità è che, cari miei, è che voi avete deciso in quanto razza umana di rimanere e di evolvere con la coscienza, per questo servirà un pianeta che fa crescere rigogliosamente ciò di cui la vita necessita, per il vostro cibo e per tutte le altre cose di cui avete bisogno, il ciclo ve lo fornirà come ha sempre fatto. L'oceano si rigenera. Ecco un argomento di cui ho promesso di parlarvi. Quanti anni avete? Vi darò alcune verità fondamentali. Se dovessi intitolare questa canalizzazione sarebbe Usare la coscienza per allungare la vita. Se vi chiedessi quanti anni avete, voi fareste qualcosa di estremamente lineare, non lo chiedereste al vostro corpo che lo sa, voi contereste gli anni a partire dalla vostra nascita. Questo vi dirà la vostra età in anni ma non vi dirà davvero la durata della vostra vita. È interessante non è vero, che nella storia ci sono stati tempi in cui la durata media della vita non superava i 40 anni, oggi la misurate attorno agli 80 anni o giù di lì. Il vostro corpo lo sa? Quanti anni avete, significa questo. Dove vi trovate nell'aspettativa di quanto a lungo vivrete? E adesso vi pongo questa domanda. Chi sta creando questa aspettativa? Tutto questo è per darvi alcune informazioni. La vostra durata della vita non viene determinata da uno scienziato, o da dati raccolti da qualche parte. Quello che avete fatto per la maggior parte della vostra vita è semplicemente esistere e lasciare che vi venga detto qual è la vostra aspettativa di vita. Questo può darvi un'idea su dove vi trovate nel piano di quanto a lungo potete vivere. Adesso voltiamo pagina, come dice il mio partner. Il corpo umano è progettato per vivere centinaia di anni, il progetto è vivere centinaia di anni, e il motivo per cui oggi non lo fa è che la coscienza non sta elevando le credenze ad un livello tale da farvi superare gli 80 anni. Il progetto è di centinaia di anni, ora, se chiedete al corpo quanti anni avete, esso lo saprà e non conterà gli anni. Scientificamente ci sono test persino sul livello che avete di omocisteina e altro, in cui il vostro corpo dice. Ecco quanti anni ho. È abbastanza interessante che questi livelli quando vengono misurati, possono essere tornati a livelli precedenti, come andare indietro nel tempo, perché ricordate è chimica, è misurare la vostra salute. E in qualche modo il corpo sa dalla nascita sino a quando non funzionerete più, e vi può dire a che punto siete. Quanti anni avete? Non ne avete idea, dovete chiederlo al corpo. Ora, se il corpo può farlo, cosa sta misurando? È possibile che possiate influenzarlo. E se foste voi a determinare quanti anni avete, e la vostra aspettativa di vita fosse completamente e totalmente separata da qualsiasi ricerca scientifica, o dal numero degli anni che siete stati qui. Molti di voi già sanno di cosa sto parlando. Ci sono quelle anime antiche sedute davanti a me che sanno di cosa sto parlando. E loro diranno. Il mio corpo mi ha detto che sono molto più giovane degli anni che ho trascorso sul pianeta, che è semplicemente una misurazione che viene dalle statistiche. Voglio che sia chiaro, se questo è il caso, come potete essere più giovani dei vostri anni? E se in qualche modo voi resettaste l'orologio del corpo tramite ciò che pensate, come agite? Ecco che arriva questa dichiarazione. Cari miei quello che pensate controlla quando morirete. Vi piace? A nessuno piace parlare di quel momento, la morte. È inevitabile, le attraversate ripetutamente inevitabilmente. Perché non allungare la vita? Perché allora dovete attraversare quello che qualche diagramma dice? Vi darò, proprio adesso, alcune verità. Profonde verità. Non siate sorpresi se la scienza arriverà di nuovo più tardi e dirà. Bene, abbiamo fatto alcune meravigliose scoperte a cui non credrete. E allora voglio che vi rivolgiate a questa canalizzazione e la riascoltiate di nuovo, perché ve le sto dando oggi. L'aspettativa di vita è completamente e totalmente controllata dalla coscienza, punto. L'aspettativa di vita è completamente e totalmente controllata dalla coscienza, ci saranno coloro che ne discuteranno, e dicono. Perché la pensi così, Crayon? Come puoi pensare che possiamo superare le malattie? Quello che pensi non ha niente a che fare con ciò. Un umano possa prendere nel frattempo, una malattia li può attaccare. Ci sono posti dove la malattia è ovunque. Non ci state arrivando se siete uno di questi intellettuali che fa questo ragionamento. E se vi dicessi questo, vi darò quattro cose su cui pensare, che possono cambiare le vostre aspettative di vita. E se vi dicessi che un essere umano con una coscienza elevata non si prenderà e malattie perché la struttura cellulare la vedrebbe arrivare e saprebbe cosa fare al riguardo ed essa non si legherebbe. E' troppo? Quindi vedete, la coscienza ha tutto a che fare con le malattie. Quando si parla di guarigione, come spiegate certe cose che vedete su tutto il pianeta, come spiegate la spontaneità della guarigione, le remissioni che avvengono così velocemente che le malattie semplicemente se ne vanno? Può essere che la coscienza dell'essere umano, in un momento di sacralità dica, non voglio che vada in questo modo, voglio rimanere. E tutto il corpo le obbedisca e la malattia se ne va? Avete mai pensato che questi miracoli siano autocreati da un essere umano? Che potere che avete nel modo in cui pensate? Numero 1. Chi siete? Siete un prodotto, spesso, di ciò che i vostri genitori vi hanno detto che eravate, chi hanno detto che potevate essere o no. Molti di voi arrivano da una meravigliosa educazione e molti di voi no. Cosa vi hanno detto? Prima che aveste avuto qualsiasi scelta cosa avete visto, cosa avete sperimentato che vi ha dato un'idea di chi siete? Vi è stato detto che potete fare tutto, vi è stato detto che non potete fare niente? Questo forse è controverso, lo dirò comunque. Quando siete diventati abbastanza adulti da prendere le vostre decisioni lo avete fatto? Quando vi siete incontrati in quel sacro luogo in quell'edificio dove pregate ogni fine settimana, qual era la vostra reazione quando vi dissero che siete nati sporchi? Chi siete voi? Credete che siete venuti qui per soffrire? Credete che soffrire sia ciò che Dio voglia che voi facciate? Se è così, questo è ciò che vi è stato detto. Molti di voi si sono risvegliati nell'autoconsapevolezza e iniziano a comprendere da soli. Bene, non è esattamente ciò che mi hanno detto, per niente, i miei genitori non mi hanno detto che posso fare questo, wow, wow. E sono qui che lo sto facendo. Alcuni di voi hanno guarito i loro corpi, wow, chi ti ha detto che potevi fare questo? Il vostro corpo reagirà, ascoltate, ascoltate, c'è qualcuno che ha bisogno di sentire questo adesso, proprio in questa sala. Il vostro corpo reagirà a chi pensate di essere. Se siete niente non rimarrete a lungo, se siete qui per soffrire, il vostro corpo ascolta e dice. Bene, è tempo di soffrire. Chi siete davvero, chi siete? E se vi alzaste e diceste, io sono magnifico. Sono una creatura della sorgente centrale, ho un'anima in me che esisterà per sempre, ecco chi sono. E rimarrò tanto a lungo quanto sarà appropriato, corpo mi stai ascoltando? E allora il corpo inizierà ad avere più energia, il corpo vi ascolta. Potete davvero ascoltare la riunione in corso delle vostre cellule. Avete sentito? Possiamo vivere molto più a lungo. Avete sentito questo? È pazzesco. La paura, le malattie non stanno arrivando. Avete sentito? Possiamo scacciare tutto ciò che ci disturba perché l'umano è al comando. La sacralità vostra è al comando di voi. Ecco una verità fondamentale, la numero uno. Chi siete? Se siete tutto tranne che magnifici miei cari, perché? Chi ve l'ha detto? Pensateci, chi ve l'ha detto che non siete magnifici? E voi direte che è stato qualcuno di cui vi fidavate, forse non lo sapevano e forse ancora non lo sanno. Voglio che vi sediate e ascoltiate e comprendiate che questo è reale. Numero 2. Cosa pensate del vostro passato? Ho dato una canalizzazione recentemente in cui vi ho sfidato a perdonare qualsiasi cosa che vi sia accaduta nel passato, che vi ha causato ansia, o che vi ha ferito e spezzato il cuore. Questo riguarda quella canalizzazione, questa è diversa ma sono corredate. Parlami del tuo passato. Se io stessi ad ascoltarvi e voi cominciaste a raccontare, come suonerebbe? Oh Crayon, sono felice di essere qui oggi. Ma, oh, caspita, ho avuto un passato che è stato semplicemente orribile, mi sono accadute cose di cui non ne vorresti sapere, ci sono state persone che mi hanno ingannato, il mio cuore è stato ferito, ho passato cose orribili per arrivare in questo luogo, quindi quello che avete appena avuto accade, e morirò presto, perché lo volete e prima di quanto dovreste. Ecco il punto, se vi dico parlami del tuo passato voi dite. Ci sono state delle sfide lungo la mia strada e la mia magnificenza me le ha fatte superare tutte, perché io so da dove vengo, so chi sono. Sì, c'è stata qualche delusione, forse anche un tradimento 2, il problema è loro non mio, io mi sono ristabilito completamente, non soffro perché so chi sono. Ho camminato su questo pianeta con la vecchia energia per arrivare fino a questo luogo, perché io so cosa sto facendo. Sono magnifico. È questo il vostro passato, e se non lo è, può esserlo. Potete ripensare al modo in cui parlate agli altri delle cose che vi sono accadute e formularle in maniera positiva in modo che il vostro corpo possa ascoltare al fatto che non siete venuti qui per soffrire. Potete pensare di aver sofferto in passato, quella è la parola che usate, riformulatela. L'avete superato perché siete magnifici. E per la vostra magnificenza non lo dovrete attraversare di nuovo in nessuna vita, lo sapevate? Un akash risvegliato vi direbbe le cose alle quali dovete fare attenzione. Questa è la vostra magnificenza che evolve a qualcosa di ancora più grande. Questo era il numero 2, pensateci. Cosa pensate a proposito del vostro passato? Numero 3. Cosa pensate del vostro futuro? Sapevate che sarebbe arrivata, beh, c'è qualcuno che dice che se è come il passato non sarà molto piacevole, vi diremo presto addio, avreste ragione, sì. Sono in molti ad essere così spaventati del futuro che non ci andranno. Stanno mettendo un bersaglio su ogni cellula del loro corpo, con la coscienza, che dice. Beh noi probabilmente non dovremmo essere qui. E il vostro corpo sta ascoltando a tutto quello che dite. Conoscete il futuro? Certo che no. Ma potete mandare la vostra luce al percorso quotidiano che vedete ogni giorno. Ogni giorno quindi metteteci la luce in modo che tutto ciò che vediate sia luce. Domani cosa avrete? Ho luce. E il giorno successivo? Non ci sono ancora arrivato, ma domani ho luce e quando mi alzerò il giorno successivo avrò luce. Perché io sono un operatore di luce e sono magnifico e il radio ho luce ovunque io vada. Ecco ciò che sono. E il mio futuro rifletterà questo. E il corpo sarà. Wow, con questo sì che vivrai a lungo, è tempo di cooperare. Il vostro DNA è programmato per ascoltare la coscienza, avete sentito? I geni che il DNA produce sono programmati per ascoltare voi, ciò che gli dite riguardo al vostro futuro. È spaventoso. Ci sono modi in cui puoi formulare ciò che dici, forse anche per le cose che arrivano a te, sono le più impegnative, che possiate riformularle in modo da dire. Ci andrò dritto dentro con la mia luce e uscirò dall'altro lato benissimo. Starò qui per molto tempo. Lasciate che vi dica cosa accade all'interno, con la struttura cellulare che è progredita abbastanza ad ascoltare ad una coscienza più elevata, lasciate che ve lo dica. Dentro c'è un sistema di processi che coinvolge anche il sistema immunitario che sta iniziando a cambiare e si sta rafforzando. Ecco perché le malattie non vi attaccheranno perché il corpo sa che dovrai stare qui e che hai del lavoro da fare, sa che stai lavorando nella luce e sa che questo è il motivo per il quale sei qui. Un'intera struttura cellulare che sa quello che stai pensando e quello che stai dicendo e allungherà la vostra vita di anni oltre quello che qualunque dottore dica. Numero 4. Le ho cambiate, ho cambiato il loro ordine. Dovevo mettere questa per prima e adesso la metto per ultima, prima che chiudiamo. Ed è difficile da descrivere. Quando ero alle Hawaii qualche mese fa, vi ho raccontato dell'immensità e della bellezza degli insegnamenti dei preiadiani. Vi ho raccontato della ruota dell'insegnamento che avevano. Era solo una forma che usavano per insegnare le basi dell'umanismo, della vita. Uno dei cinque raggi della ruota dell'insegnamento riguardava l'estensione della vita, e si nasconde perché non ve lo aspettate. Vi ho detto che i bambini non passavano tanto tempo su questo raggio ma mentre invecchiavano lo facevano. Come posso dirvi questo? Una volta ho canalizzato che una delle cose che passano attraverso il velo intatte è la risata. Se andate dall'altro lato del velo ridereste. Continuamente a modo vostro. Potreste dire che il nome che avete nella luce scintilla di gioia e di risalta continuamente. Ecco cosa fa la compassione, vi libera e vi rende pieni di pace, volete solo scoppiare a ridere e di gioia e cantare canzoni, proprio come quando eri bambino e non conoscevi altro. Quando eri un bambino e non avevi le preoccupazioni della terra, quando non dovevate preoccuparvi di niente eccetto quanto a lungo potevate giocare e ridevate di tutto. Camminando per la strada incontravate un insetto e ridevate, di quanto era carino e buffo. Guardavate al cielo in modo così innocente e sorridente, e ciò che vedevate era solo il blu ma era così bello anche se nevicava. La prima nevicata è stata così magica. Ricordate la prima volta che avete visto le gocce di rugiada sulle foglie con quella luce del mattino, era così mistico e magico. E volevate solo scoppiare a ridere. Cari miei, come posso dirlo? Se non avete ancora tutto questo il vostro corpo lo sa, e non vivrete così a lungo come volete. Quel bambino all'interno non è semplicemente qualcosa di sfuggente, è ancora lì e se non c'è dovete trovarlo attraverso la vostra magnificenza così che possiate avere gioia e risate. E questa dovrebbe essere la prima cosa che avviene, non l'ultima. Quando entrate in una situazione non siete mai, c'è un sorriso sul vostro volto o siete accigliati e spaventati perché non sapete dove siete e non sapete come funzionano le cose. Andate in un edificio governativo in cui dovete compilare dei moduli, dov'è il bambino interiore? E se fosse proprio lì che guarda tutti i moduli, ah, 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 si fa interessante. Di nuovo, supererò tutte queste cose, perché io sono magnifico. Avete ancora la capacità di guardare le gocce di rugiada sulle foglie, sui ramoscelli, dopo di questo potete vedere arcobaleni splendere e ridere per questo. Potete vedere tutte le cose belle attorno a voi. Potete vedere un bambino e riferirvi a lui, ero lì, era bello e ancora lo è? C'è gioia nella vostra vita? Perché se non c'è, il corpo lo saprebbe. Un umano privo di gioia che si lamenta e non si aspetta molto dal futuro ha un sistema immunitario che sta chiamando le malattie. Dove siete, andiamo o non possiamo essere qui per sempre. Vi ho appena detto la verità, la verità assoluta, usate queste cose da soli. Solo queste quattro cose. Ci sono quelli che ascoltando questa canalizzazione che possono allungare le loro vite di una decade più, parecchio oltre quello che ci si aspettasse di vivere ed essere in salute fino alla fine. Anime antiche, dovete iniziare a vivere più a lungo perché potete riprendere questo e sapere di cosa sto parlando e farlo. C'è una morte appropriata qualche volta anche quando siete giovani, così che possiate tornare e fare cose che non potevate fare ad un'età più avanzata, ci sono queste cose naturalmente. Ma io sto parlando dell'aspettativa media della vostra vita. Adesso, volete allungarla e restare in salute nel processo. Vi ho appena dato i quattro segreti, questo intero giorno di insegnamenti è stato sulla coerenza, ha riguardato le misurazioni che mostrano cosa può fare la coscienza. Alla fine la scienza ha detto che la coscienza deve essere fisica, e io vi ho appena dato fisica e della chimica e come usare la vostra coscienza per mantenervi qui più a lungo. Pensate queste cose, non sono così difficili. Chi siete? Cari miei, questi sono gli insegnamenti dei preiadiani nella loro forma di base. La coscienza al di sopra di tutto, risate, gioia sono la chiave. Andatevene da questo luogo con queste cose, alcune delle quali potrebbero essere nuove per voi. Praticatele e vedete come ci si sente. È tempo, ho parlato di pochi di voi stasera e lo sentite, conosco il vostro nome e voglio che rimaniate qui per molto tempo, cari miei, molto molto tempo. E così è.